15 alla via, 1 Livo del Rio, 2 O, IOB, 3 Nomen PF, 4 October PF, 5 Liquore d'Italia, 6 Novità, ok, 7 Echifox. In seconda fila, 8 Ortega, 9 Nobel Bar, 10 Mansell Fly, 11 Orocaf, 12 Naif Bip, 13 One Way Lulu, 14 Omega Play, in terza fila 15 Minatab. Di Galoppo, Naif Bip, sbaglia anche Nomen PF. C'è lotta per il comando con Icifox, che dall'esterno impegna Liquore d'Italia e O, IOB, poi Nobel Bar dalla seconda fila. Sfonda Icifox a spesa di 200 in 13,5. Guida su O, IOB, Liquore d'Italia, aria in faccia, poi Nobel Bar. Per linee esterne, Omega Play e Orocaf, Liquore che chiede strada, 28,6 volati, primi 4, passa Liquore d'Italia, davanti alle tribune. Si libera e viene via, Orocaf, dopo mezzo giro abbondante. E Orocaf si migliora, sopravanza Liquore, passa dopo 600 metri in 43,2. Il ritmo è selettivo e Cavalli affrontano la seconda curva con Orocaf, battistrada nei confronti di Liquore d'Italia e Omega Play. L'errore nelle retrovie di One Way Lulu, 58,2 il mezzo miglio. Si va forte, fortissimo per la categoria. Omega Play, che si migliora a largo, sopravanza Liquore d'Italia e prova ad andare direttamente su Orocaf. Il chilometro iniziale è l'1.13.8 da parte di Orocaf, che risponde all'attacco esterno di Omega Play. A largo Icky Fox si libera anche Olivo del Rio, quando i Cavalli sono all'imbocco della piegata conclusiva. Emilia 2 della testa è l'1.28.5, chiusi con una frazione 14.8. Orocaf in vantaggio, Omega Play nella sua scia, poi Olivo del Rio che passa terzo sul calo di Icky Fox. Quando i Cavalli entrano in retta d'arrivo, Orocaf che parte da più due lunghezze di vantaggio. Su Omega Play, Olivo del Rio che prova ad ingambarsi, 100 e si viene a casa. Orocaf nel tratto conclusivo, si mantiene nettamente in evidenza. Vince agevolmente, Olivo del Rio è secondo e al terzo posto Omega Play. 29.7, gli ultimi 400 mesi, sul mio cronometro c'è 1.58.4, misura che ovviamente va confermata. Sarebbe 1.14, 1.14.1. Un ritorno al successo davvero in maniera devastante per Orocaf. Raffaele Forino in sulchi, colore della scuderia Lucia. Il training di Osvaldo Tomaselli al secondo posto, Olivo del Rio, autore di ultimi 600 mesi in terza e quarta ruota. Buon terzo Omega Play che si è ricostruito a largo. 11.1.14, l'arrivo della prima.